Udite udite, nelle scorse ore è stata divulgata una notizia ufficiale, un comunicato ufficiale da Microsoft per quanto riguarda le specifiche della nuova Xbox, conosciuta ormai negli ultimi mesi, diciamo, da quando è stato l'annuncio ai Game Awards come Xbox Series X. Ora, abbiamo saputo un sacco di cose negli ultimi mesi, un sacco di indiscrezioni riguardanti specifiche tecniche, la presenza o meno di un SSD super veloce, il ray tracing, mica ray tracing, i teraflops di potenza. Abbiamo oggi delle conferme ufficiali per quanto riguarda appunto le specifiche di questa console che vedremo tendenzialmente a fine di questo anno. Dato importante e non importante allo stesso tempo è la potenza dichiarata. Sono stati ufficializzati questi 12 teraflops di potenza per quanto riguarda la GPU o comunque sistema custom per quanto riguarda GPU e CPU che verranno inclusi all'interno di questa nuova Xbox ovvero tendenzialmente il doppio rispetto all'attuale flagship per quanto riguarda il mondo delle console ovvero Xbox One X. E a proposito di quello che ci sarà all'interno sono state confermate anche le tecnologie ovvero le architetture su cui sarà basato il chip che darà potenza a Xbox Series X ovvero siamo ormai certi abbiamo la conferma che si tratterà di Zen 2 per quanto riguarda lato CPU e RDNA 2 quindi abbiamo la conferma ufficiale che si tratterà dell'architettura RDNA nella sua seconda iterazione per quanto riguarda la GPU quindi un sistema integrato appunto di next gen. Le sorprese però non si chiudono con il chip perché ci sono un sacco di novità riguardanti appunto la nuova Xbox a partire dal variable rate shading che è stato confermato con tecnologia proprietaria Microsoft in questo caso aiuterà chiaramente a sgravare le prestazioni ovvero quello che è il compito dello shading verrà alleggerito anche sulla nuova console permettendo prestazioni tendenzialmente superiori non abbiamo mai spiegato nello specifico di che cosa si tratta non abbiamo mai spiegato qui su YouTube che cosa sia il variable rate shading ma se volete potremo fare un video dedicato fatto sta che in buona sostanza serve ad alleggerire il compito appunto il lavoro dello shading da parte delle unità operative all'interno della console e di fatto garantire prestazioni superiori inoltre è stato confermato ancora una volta il ray tracing tramite le DirectX di Microsoft ovviamente sono dati molto generici non c'è niente di specifico è stato semplicemente confermato non sapremo quanto è profonda la sua applicazione all'interno e quanto sarà profonda all'interno dei videogiochi trattati dalla console non sappiamo se tutti i giochi lo supporteranno non sappiamo nello specifico tutto a riguardo ma sappiamo che è stato confermato ufficialmente senza più smentite di vario tipo e per parlare di reattività ancora migliorata ancora una volta è stato riconfermato per l'ennesima volta un SSD ultra veloce per gestire i giochi nella maniera appunto più ottimale possibile soprattutto per quanto riguarda i caricamenti e la velocità di essi all'interno del gioco è stato confermato è stato diciamo svelato un dettaglio tecnico che prende il nome di Quick Resume tramite il quale potremo riprendere le nostre partite su moltiplici giochi da dove le abbiamo interrotte in pochissimo tempo in pochissimi istanti una tecnologia proprietaria che serve appunto a ridurre ancora di più i caricamenti e a non farci mai interrompere la partita magari dovendo ricominciare da un menu dovendo ricominciare da degli step intermedi ma andando dritti al punto da dove abbiamo lasciato il gioco l'ultima volta oltre a questo troviamo anche il Dynamic Latency Input spero di averlo detto bene che è un metodo tramite il quale Microsoft dice di aver ottimizzato ancora di più l'input lag quindi aver ottimizzato la tecnologia wireless tramite il quale si interfaccia la console con il proprio controller il controller Microsoft e averla migliorato ulteriormente di modo da diminuire il più possibile l'input lag che è uno dei grandi problemi diciamo in questo mondo nel mondo del videogioco soprattutto legato al mercato console per quanto riguarda i controller wireless a bordo della nuova Xbox troveremo anche delle HDMI in standard 2.1 e udite udite il mondo delle console si affaccia sull'alto refresh rate perché si è stato dichiarato ufficiale la compatibilità con i 120 fps quindi siamo a una svolta per quanto riguarda questo mondo abbiamo il doppio del refresh rate a cui siamo sempre stati abituati nel mondo console quindi abbiamo finalmente una compatibilità con un gaming più elevato più fluido più realistico e anche più immersivo perché come sapete benissimo se giocate su PC e anche solo negli ultimi anni un refresh più alto permette anche una miglior immedesimazione e immersione all'interno dei videogiochi proprio per quanto la scena diventa più realistica con un frame rate più elevato e questo non vediamo veramente l'ora di provarlo sulla nuova generazione di console per rimanere nel mondo delle riconferme ufficiali ritroviamo anche la compatibilità con i titoli Xbox One e Xbox originale E360 quelli già compatibili con le precedenti piattaforme quindi avremo comunque una compatibilità totale con tutti quelli che erano i titoli già compatibili con la piattaforma precedente quindi anche quelli di 360 e di Xbox originale che erano stati resi compatibili con la generazione di Xbox One e One X la riconferma appunto di questa rigiocabilità, retrocompatibilità anche sulla next gen ovviamente con tutti i benefici che derivano dall'hardware più potente da un SSD, una deduzione appunto di sistemi di caricamento più veloci e una gestione grafica migliore appunto data da un chip molto più potente e il tutto, il comunicato, sempre parlando di videogiochi si conclude con chiaramente il servizio principe per quanto riguarda Microsoft ovvero Game Pass che è stato riconfermato ed è stata riconfermata la volontà da parte dell'azienda di far crescere questo servizio e portare sempre in continuazione anche in futuro i propri AAA al giorno 1, al day 1 anche sul servizio Game Pass quindi come ad esempio vedremo Halo Infinite fin dal primo giorno anche tramite Game Pass vedremo tutti gli altri titoli, futuri titoli AAA dal primo giorno già giocabili tramite questo servizio che ormai l'abbiamo elogiato in tutte le modalità possibili e sapete benissimo quanto teniamo anche noi a questo Game Pass per quello che sta offrendo e che potenzialmente potrà offrire anche negli anni futuri a tutti i videogiocatori, non solo Xbox ma anche chiaramente PC con il rinnovato, il neonato, tra virgolette, Game Pass per PC qui si chiude un po' la sfilza di novità e conferme da parte di Microsoft per quanto riguarda Xbox Series X ma io come al solito non mi dilungherò ulteriormente per questo video ma lascerò la parola completamente a voi qua sotto nei commenti avete tutto lo spazio che volete fatemi assolutamente sapere che cosa ne pensate di tutte queste riconferme, di tutte queste novità quindi non ponetevi limiti, fatemi sapere tutto quello che volete qua sotto io vi risponderò insieme ai miei colleghi di Game Division e vi do appuntamento come al solito i prossimi giorni con tanti altri video ancora ciao ragazzi